Ciao da Valerio Iovine, volevo segnalarvi una cosa molto importante. Tra le bellezze di San Bartolomeo in Galdo, un piccolo borgo in cui ho suonato tantissimo ma soprattutto in cui ho legato la mia vita privata, spicca Palazzo Catalano. Non è un palazzo qualsiasi, bensì ti affascina e ti fa riflettere con il suo passato misterioso. Dobbiamo far luce su questo passato incerto e quindi valorizzarlo. Vi segnalo un'iniziativa speciale svolta da FAI, Fondo Ambiente Italiano. Ogni anno ci sono delle iniziative proprio per scoprire e valorizzare questi luoghi dimenticati sul nostro territorio. Se volete partecipare basta collegarvi al sito www.iluoghidelcuore.it Alla prossima OIU, mi raccomando.